Noi sporchi di fango, voi sporchi di sangue. Una frase e un'accusa forti divenuti un coro e uno slogan su striscione risuonati questa mattina di fronte a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche. Oggi, 23 settembre, infatti il venerdì dei Fridays for Future, ovvero gli scioperi del clima ideati da Greta Thunberg. Un presidio a contrasto ai cambimenti climatici che nella città di Ancona si è tramutato in una manifestazione che ha radunato attivisti di ogni genere. Manifestanti che hanno riversato la loro rabbia verso l'amministrazione della Regione Marche. Una Regione che, a dire degli attivisti, avrebbe responsabilità e negligenze pesanti nella mancata prevenzione verso una catastrofe ambientale tramutatasi in una tragedia che ha lasciato dietro di sé 11 vittime. Un gruppo di manifestanti ha infatti raccolto fango nei luoghi alluvionati di Senigallia per poi rovesciarli sulle scale dell'accesso al Palazzo della Regione. Sono state pure imbrattate le pareti dell'edificio con la melma usata anche come inchiostro per epiteti offensivi. L'amministrazione ha già presentato un esposto alla Procura di Ancona per gli episodi di deturpazione avvenuti questa mattina.